Ciao a tutti! Noi siamo in viaggio, siamo in viaggio verso l'Alsazia perché per questo ponte dell'8 di dicembre, qualche giorno, ci siamo concessi una piccola fuga, diciamo, verso la Francia, verso quella che si chiama la Route de Vin, ovvero la strada di... L'unica vera tappa fissata per il nostro viaggio è Colmar. Colmar viene definita la città delle luci. Città luci. Città luci, esatto. E il suo centro storico è davvero molto pittoresco. La principale ragione del nostro viaggio, però, è quella di immergerci nell'atmosfera del Natale. E qui a Colmar... Babbo Natale. Babbo Natale. E qui a Colmar non è difficile farlo perché vengono allestiti cinque mercatini. Cinque mercatini. Mercatini. Si sviluppano lungo quello che viene definito il percorso della luce, a metà tra lo spirituale e il commerciale. Cibi della tradizione gastronomica alsaziana e prodotti tipici locali si alternano sulle bancarelle. Uno di questi, numero cinque, viene chiamato il mercatino dei bambini. Anche se in tutti è facile trovare giostre e attrazioni per loro. E poi ce n'è uno persino al coperto. Ma i mercatini di Natale non sono tutto a Colmar. Infatti c'è un quartiere che si chiama la piccola Venezia, dove le casette colorate si affacciano sui corsi d'acqua che caratterizzano un po' tutta la città. E noi abbiamo giocato anche a buttarci le foglie. Insomma, una città di grande fascino che a dicembre riesce davvero ad accendere la magia. 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 Magia.